Coceci, quando si parla di te si parla di discipline veloci sulla pista. Cosa ti aspetti da questi mondiali? Come è avvenuta la tua preparazione in chiave iridata? Allora, l'obiettivo di questo mondiale ovviamente è raggiungere il miglior risultato possibile nel Kering per puntare sia al risultato finale ma anche per finalmente concludere questo ciclo di qualificazione olimpica e che diciamo che è stato un buon ciclo. Nell'ultimo periodo è stato abbastanza difficile ma con l'ultima Coppa del Mondo ci siamo riavvicinati molto e diciamo che le possibilità sono molto alte. L'obiettivo è quello di entrare in una delle due finaline, quindi nei 12 classificati ovviamente più avanti si va e meglio è. L'ultimo mese di preparazione è dopo la Coppa del Mondo di Hong Kong, lo svolto tutto quanto qui a Montichiari nel velodromo e sta procedendo tutto nel migliore dei modi. Adesso manca l'ultima settimana di scarico e poi ci giochiamo tutto quanto nel mondiale. Quindi appuntamento a Londra però guardando sempre verso Rio 2016? Sì, è l'obiettivo principale anche perché comunque penso sia una coronazione di quattro anni per olimpici e penso anche sia l'obiettivo di qualunque altro sportivo e al massimo per puntare a questa qualificazione che devo dire è fattibile, ci credo e voglio andarci. Grazie Francesco e bocca al lupo. Grazie.